Quarta vittoria su sette gare giocate, imbattibilità ancora intatta ed una cavalcata che continua nei primissimi posti della classifica. Il Teramo batte la Juve Stabia grazie al primo gol in maglia biancorossa di Arrigoni, nel giorno tra l'altro in cui il Covid tocca direttamente il gruppo squadra biancorosso, con le positività di Costa Ferreira e Bombaggi. Paci sceglie Kappa per sostituire il portoghese e fa tornare Diakite al centro della difesa per far posto a destra all'ASIC. Per il resto in campo va la formazione consueta, mentre le Vespe optano per un più accorto 3-5-2 con Romero e Bubas in avanti. I giallo-blu non rinunciano a giocare nel primo tempo e si fanno anche pericolosi in alcune occasioni. Al dodicesimo Teramo non impatta per pochissimo di testa il pallone dagli sviluppi di una punizione. Cinque minuti dopo Mastalli serve Romero che in bello stile supera Piacentini e spedisce un mancino di poco sul fondo. Il primo squillo del Teramo arriva al ventiquattresimo quando l'ASIC al volo mette in mezzo per Kappa, che di prima intenzione prova la deviazione sul primo palo, ma di riflesso Tomei mette in angolo. Tentardini al trentunesimo si trova al posto giusto nel momento giusto per rimuovere dalla testa di Trest una palla che il difensore avrebbe solo dovuto spingere in porta. Due minuti più tardi Tomei pensa ancora che Tentardini sia il suo compagno di squadra quando gli lascia il pallone e crea involontariamente un'occasione per il Teramo. Arrigoni poi verrà murato da Mastalli. Berardocco lascia il campo acciaccato per Bova ad inizio ripresa, ma la gara va subito nelle mani del Teramo. Al quarto infatti Andrea Arrigoni guarda il suo ex compagno di squadra tra i pali e fa partire un tiro che si infila sotto l'incrocio. E il primo gol con il diavolo per l'ex Lecce e sarà anche la rete che deciderà il match. K al nono prova ad imitarlo, ma Tomei questa volta mette in angolo. La Juve Stabia prova la risposta con un diagonale di Bubas che si spegne a lato, ma le Vespe non riusciranno ad essere più concreti dalle parti di Ramandowski. La girata di Romero che si spegne sul fondo al 39esimo è l'ultima vera chance per i gialloblu che non danno continuità al successo contro la Cavese. Il Teramo invece dà risposte importanti sia dal punto di vista della tenuta fisica che di quella mentale e si preparano al match di sabato prossimo in casa della Paganese.